Un'informazione sensazionalistica, i marginali settori della politica hanno lavorato per insinuare nel modo più gratuito il sospetto di interferenze smentite da tutti gli interessati da parte della Presidenza della Repubblica. Con queste parole durissime, Giorgio Napolitano inaugura la nuova sede di Scandicci della Scuola di Formazione per Giovani Magistrati, un luogo simbolico per mettere la parola fine ad una vicenda che lo ha scosso profondamente, sia sul piano personale che su quello istituzionale. Il tema è ovviamente quello che riguarda la trattativa Stato-mafia dei primi anni 90 e le telefonate intercettate dalla Procura di Palermo tra il Colle e l'ex ministro degli interni, Nicola Mancino, indagato a Palermo per falsa testimonianza. Inaccettabili le insinuazioni prosegue il Capo dello Stato al punto che il ricorso alla Corte Costituzionale sulla lecetà delle intercettazioni disposte dalla Procura di Palermo è una decisione obbligata per chi abbia giurato dinanzi al Parlamento di osservare lealmente la Costituzione. Napolitano ha voluto parlare di questo scandalo ai futuri magistrati, supportando le proprie argomentazioni con un libro che raccoglie tutti i suoi interventi in materia di giustizia. Nel volume sono presenti anche due lettere importanti. La prima è quella scritta dal suo fidatissimo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio dopo le prime indiscrezioni e la seconda è la risposta dello stesso Napolitano al suo collaboratore che pochi giorni dopo morì per un infarto in cui si legge sono io il vero bersaglio anche se colpiscono lei. Una mossa sorpresa quella del Quirinale resasi ancora più necessaria dopo la memoria difensiva della Procura di Palermo che leggeva il conflitto d'attribuzione presentato dal Quirinale come una richiesta più vicina a quella di un sovrano che di un presidente repubblicano. Dopo alcuni giorni di silenzio Napolitano ha deciso di difendersi con forza e ha cercato di difendere anche la memoria del suo collaboratore.